Un sorriso e una curva che raddrizza tutto. Oggi è un'ottima giornata per creare. Tutto comincia con sei pezzi di gomma IVA dei colori che preferite. Io ho utilizzato queste fustelle cerchio relativamente di 6,5 cm la più grande, di 1,4 cm la più piccola, mentre la fustella con lo smerlo misura circa 4,7 cm. Ho fatto varie prove con le misure prima di poter ottenere un mancheron discreto dalle giuste proporzioni. Io ho fustellato con la mia amata bixottina, ma mi rivolgo alle creative che non la possiedono. Per poter creare questi cerchi si potrebbero utilizzare ad esempio i tagli a biscotti. Si preme sul pezzo di crepla e si ritaglia lungo i solchi ottenuti. Bene, adesso cominciamo ad incollare la crema. Ops, intendevo dire. Incolliamo con una colla a caldo e uniamo i cerchi più piccoli. E adesso si stirà a scherzo. Poniamo sulla piastra del ferro il cerco più grande e magia inizierà a bombarsi pian piano. Una volta tolto, cercate di modellarlo per dare una forma più rotonda finché è caldo. Vi raccomando, il ferro deve essere sempre in modalità no vapore. Occhio a non uscionarvi. Ora sì che si comincia ad assemblare il nostro macaron, mettete un filo di colla vinilica, mi raccomando, solo un filo, lungo il bordo del cerchio bombato. E poggiateci sopra il cerchio smerlato. Fate così anche con l'altro cerchio bombato. E vi do un consiglio. Una volta applicata la colla, cercate di lasciare asciugare il tutto per qualche ora prima di procedere. Bene, adesso proseguiamo e facciamo il nostro macaron con la colla a caldo, mettendo la crema al centro. Incolliamo un lato, incolliamo anche l'altro lato e voilà, non è adorabile. È bellissimo questo macaron, non trovate che somigli tantissimo ai macaron reali. Guardate, eccone altri di altri colori diversi. Uno al limone con la crema di nocciole, uno al cioccolato con crema di pistacchio. Non viene l'acquolina a guardarli, guardate, sono identici a quelli commestibili. Viene così voglia di mangiarli. Bene, siamo giunti alla fine della nostra creazione. Eccoli qui i nostri simpaticissimi macaron. Io ho cercato di metterli così, ops, sono caduti. Si possono abelire varie creazioni. Io ad esempio ho fatto questo portacchiavi mettendo all'interno un nastrino.